Come nel più classico gioco dell'oca, siamo tornati al punto di partenza sulla questione dello sviluppo dell'aeroporto di Fidenze. I segnali di distensione lanciati dal governatore Eugenio Gianni sono già finiti in un cassetto, con il partito democratico di Sesto Fiorentino che si schiera al fianco del sindaco Falchi, confermando la posizione di contrarietà allo sviluppo di Peretola. Di fronte a progetti simili a quelli già bocciati nel corso degli anni, la posizione non può che essere di contrarietà, dice il PD di Sesto. Parole che suscitano di nuovo l'irritazione del governatore. Quando parlo di pista, dice al Corriere Fiorentino, mi riferisco anche alla tramvia, all'ingresso del polo scientifico, alla volontà di portare avanti la proposta di finanziamento per il metro tram da Peretola a Prato, passando per lo smannoro. Se il PD di Sesto continua così, sappia che dice no a queste opere pubbliche. Prova a mettere pace all'interno del partito la segretaria regionale, Simona Bonafè. La nostra posizione non è cambiata, dice abbiamo sempre detto che serve l'adeguamento della pista di Peretola. Mi pare, peraltro, che il presidente Gianni stia studiando una soluzione proprio in accordo con le amministrazioni coinvolte. Predica calma anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che invita ad attendere prima di esprimere giudizi e fare commenti, almeno la presentazione del progetto nella nuova versione che si sta ipotizzando, la pista da 2.200 metri convergente verso l'autostrada. Ricordo a tutti, dice Nardella, che da 30 anni si discute dell'aeroporto, ma chi ne paga le conseguenze sono i 30.000 cittadini fiorentini del quartiere 5, in particolare delle aree di Brozzi, Quaracchi e Peretola.